Guarda com'è facile preparare questi cordon bleu con le zucchine, non sono fritti ma sono cotte al forno. Lavate le zucchine, spuntatele e tagliatele a fette non troppo sottili. Prendi un ronno a fette di zucchina, metti al centro del prosciutto cotto e del formaggio, copri con la seconda fette di zucchina. Passate il cordon bleu nella farina, poi nell'uovo sbattuto, nel pane grattugiato, poi nuovamente nell'uovo sbattuto e nel pane grattugiato. Sistematele nella teglia del forno, aggiungete un goccio d'olio e un pizzico di sale, fate cuocere a forno già caldo 180 gradi per 20 minuti. Se le provate fatemi sapere. Grazie a tutti.